buongiorno ragazzi e bentornati sul canale di lost space project oggi oggi ragazzi è un grande giorno sono emozionatissimo perché dopo l'intervista fatta con ivo de palma oggi abbiamo l'intervista all'anima e la voce di sirio il dragone ovvero mal marco balzarotti e la pubblico come speciale per i 400 iscritti e vi dico già una cosa ragazzi fino a che non arriveremo a mille iscritti non farò più speciali l'obiettivo adesso sono i mille iscritti fino ad ora ho fatto lo speciale per i 100 i 200 i 300 adesso siamo 400 ma voglio fare il prossimo speciale e sarà uno speciale della madonna quando arriveremo ai mille iscritti perché è un traguardo per me fondamentale per noi importante perché più la comunità si allarga più abbiamo iscritti più abbiamo modo di parlare sempre in maniera più obiettiva ea 360 gradi dei cavalieri dello zodiaco ovvero dell'anime che tanto amiamo e che mi ha portato a farvi ascoltare la mia voce quindi mi raccomando iscrivetevi al canale condividete i video condividete il canale spammatelo ovunque a mamme cugini fratelli conigli gatti cani e anche le vostre mucche se le avete detto questo passiamo all'intervista vera e propria diciamo che doppiare sirio nei cavalieri dello zodiaco è stato in quegli anni uno dei primi grossi salti nella mia carriera cominciavo proprio in quegli anni lì a fare i protagonisti sia nei telefilm che nei cartoni animati eccetera eccetera per cui ho avuto un grosso impatto sulla mia carriera questo è assolutamente evidente non si può negare è vero sirio è forse il più riflessivo dei cavalieri dello zodiaco e per come la penso io ma soprattutto per quanto può valere il mio pensiero la mia opinione anche nella vita reale secondo me è molto importante essere riflessivi pensare fino a dieci prima di di dare un parere prima di lanciarsi prima di essere fumini per cui secondo me si riflettere prima di agire non è un punto debole ma è un punto di forza sicuramente il linguaggio usato nei cavalieri dello zodiaco è stata è stato una grossa novità perché effettivamente è aulico è particolare è strano soprattutto per quel periodo non è stato un problema anzi è stato un aiuto io non sono molto al corrente delle questioni giapponesi credo che ci si sia un po scollati da da quello che era l'originale però però è stato il punto di forza di questa serie e per quanto riguarda la recitazione non è stato un deterrente non è stata una cosa più complicata anzi è stato un piacere lanciarsi e cimentarsi in un modo di recitare così particolare da quello che ricordo fiore di luna è un personaggio femminile un po geisha che è molto lontano dal mio ideale di donna emancipata però credo che faccia parte anche del pensiero giapponese riferito soprattutto a quel periodo riferito al personaggio femminile per cui non non mi sento di dare un giudizio mio e dare un giudizio su come vedo io la donna oggi che è totalmente diverso ma esula un po da 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 quello che che ci azzecca con con la serie in se stessa la serie netflix dei cavalieri dello zodiaco ma perché no sì io mi sentirei di consigliarla a coloro che vogliono approcciarsi a questo mondo per la prima volta più che altro di mio direi magari partite cronologicamente dalle prime questa è l'ultima arrivata io la terrei per ultima non perché meno importante ma proprio perché vale la pena prima approcciarsi a tutto il mondo precedente le sigle ma io non ho una sigla preferita mi piacciono tutte mi rendo conto che sembra una risposta un po politica però però veramente non mi sento di dire ce n'è una in particolare ma forse per nostalgia la prima primissima facciamo così colpo segreto del drago nascente l'avrò detto magari migliaia di volte no ma centinaia sicuramente urlando come un pazzo me lo ricordo me lo ricordo benissimo il colpo segreto del drago nascente oltre a sirio in questi 42 anni di carriera ho doppiato un sacco di personaggi attori famosi umani tantissimi cartoni animati adesso stare a elencarli tutti oltre a sirio dei cavalieri non lo so mi viene in mente batman mi viene in mente l'incredibile hulk mi viene in mente action man oppure quelli strani tipo il gatto megalo di di topo gigio o milord di sailor moon ce ne sono centinaia rischierei di fare torto a qualcuno a qualcosa forse anche in questo caso se devo scegliere oltre a sirio direi batman che mi accompagna dal 1992 quindi ha proprio preso un pezzo della mia vita si attualmente sto lavorando su diversi progetti sto doppiando varie cose e come sapete purtroppo noi siamo legati a dei contratti che ci impongono la segretezza su su quello che stiamo registrando tanto che ogni tanto qualche collega poco opportunamente si fa dei selfie in sala o si fa scappare qualcosa succedono dei casini apocalittici inenarrabili e per cui non posso parlare di quello che sto facendo fra le ultime cose uscite c'è una bella serie di su sky che si chiama i racconti della gazzaladra è una serie poliziesca molto carina molto inglese il regista è Peter Cattaneo per chi lo conosce per cui vi parlo di questa fra le ultime uscite di tutto quello che è Lili per uscire purtroppo ribadisco firmiamo dei rapporti di segretezza e non mi è possibile farmi scappare niente sarebbe un disastro il fatto che Sirio fosse spesso cieco sì, è vero, è verissimo però non mi è mai capitato che fosse motivo di divertimento di battute coi colleghi anche perché in generale non mi piace deridere qualcuno qualcosa anche se in questo caso un cartone animato per i difetti fisici è una cosa che non è mia non non mi viene proprio in mente di farlo per cui no non è non è mai successo dare dei consigli per l'interpretazione di Sirio il Dragone allora da deformazione professionale da doppiatore io ti direi di stare il più possibile vicina all'originale questo da un punto di vista proprio mio un'aberrazione lavorativa e invece per quanto riguarda te che sarai sicuramente una persona ricca di fantasia di voglia di fare eccetera eccetera io direi parti a considerare l'originale poi lasciati portare dalla fantasia e vedrai che uscirà un lavoro assolutamente ben fatto siete pronti terra il volume colpo segreto del drago nascente ciao a tutti grazie che cosa dire che cosa aggiungere oltre a quanto già detto da questo da questo personaggio straordinario che è Marco Balzarotti io posso solo ringraziare Marco per il tempo che ci ha concesso per la sua disponibilità gentilezza e professionalità e ovviamente per averci dato anima e voce di Sirio e quindi essere stato parte integrante della nostra infanzia e del nostro amore per i cavalieri dello zodiaco mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo contenuto ciao ragazzi